Stasera celebriamo vent'anni di LA Piper in Italia, uno studio legale che è il primo studio legale internazionale in Italia e di cui sono orgoglioso e fiero di essere socio. Io sono socio da 16 anni, mi occupo di proprietà intellettuale, mi chiamo Roberto Valenti, ho un focus sul life science e stasera è una serata di celebrazione dei successi dello studio e perché no, dei successi dell'Italia tutta, visto che poco abbiamo ottenuto la sede centrale dell'UPC, l'Ufficio Brevetti, il Tribunale Brevetti Unificato e quindi qui a Milano ci saranno le cause in materia di proprietà intellettuale sui brevetti farmaceutici e sui brevetti sulla necessità della vita, quindi dalla moda al farmaceutico tutte queste controversie si litigheranno qui a Milano. È un grande successo, ripeto, dell'Italia e dello studio tutto e sono molto contento di avere questa occasione di celebrazione.